MISTER ROBERTO TAURINO Il grande spirito di questi ragazzi è soprattutto oggi della grande umiltà. Abbiamo avuto l'umiltà di sapere che dobbiamo fare una partita vera e non ci siamo fatti ingannare dalla classifica come è giusto che sia perché il calcio ha dimostrato non solo in Serie D ma in tutte le categorie che non ci sono partite scontate al di là di quello che dice la carta o che può dire la classifica. Oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione soprattutto nell'attenzione, nello stare in partita e nel non sottovalutare assolutamente questo impegno. Portiamo a casa questi tre punti importanti che ci consentono di continuare il nostro percorso. Un bitonto che ha dimostrato sin da subito di sapersi adattare a una partita da battaglia anche per il terreno di gioco. Ha capito che non poteva magari manovrare come suo solito, ha dovuto fare uso di altre tecniche, altri strumenti per poter avere la meglio. Sì, l'adattamento per me è una delle qualità che deve avere una squadra, una squadra che vuole raggiungere risultati importanti e noi oggi in questo siamo stati molto bravi, abbiamo visto da subito il campo, già prima della pioggia non era in perfette condizioni, la pioggia l'ha reso praticamente un campo di fango, quindi era complicato esprimere una manovra più armoniosa diciamo così, quindi abbiamo cercato più attacchi diretti, abbiamo cercato di giocare palle più in verticale, di aggredire. Siamo stati premiati, abbiamo costruito delle palle inattive e oggi è stato importante perché le palle inattive sono un elemento fondamentale e oggi devo dire che Max l'ha battuta la grande e siamo riusciti a capitalizzare su questi due palloni, abbiamo indirizzato la partita nel migliore dei modi. Poi sul finale devo fare complimenti anche a chi è subentrato perché sul finale in un momento di stanca gli ingressi dalla panchina ci hanno dato nuova energia, abbiamo ricreato diverse situazioni per arrotondare il risultato, abbiamo trovato il 3-0, potevamo trovare qualche gol altro, mi dispiace per Silvio che non ha fatto gol ma è entrato con uno spirito incredibile e incomiabile. La vittoria del gruppo direi, la vittoria di qualcuno che fino adesso è stato impiegato meno ma oggi Zaccaria ha fatto una grossa partita, Raffaele ha fatto una grossa partita, Pierno è entrato alla grande e ha fatto una grossa partita sin dall'inizio. I ragazzi che si stanno allenando bene e nel calcio diciamo che è quasi un calcolo matematico, se uno si allena bene in settimana prima o poi quando ha l'occasione dimostra il proprio valore. Questi ragazzi si sono fatti trovare pronti e sono la nostra forza.